Il partito del piccione Enzo Paccio e tutti gli altri Cioè ragazzi questo qua è il nuovo idolo Ma guarda Cioè non ha detto mezza frase E ha fatto un milione di visualizzazioni La musica passa da lui Chi? 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 Erfaina se non ti intendi di musica Parla di argomenti affini Come gli accendini e altro La musica lasciata fare a chi è capace Enzo adesso io non so se devi tardare la partenza sia il caso Comunque è partito un altro dissing con il Faina Io in questo caso sinceramente non mi sento neanche da accusarla Damiano Secondo voi io da presidente che dovrei fare in questa situazione? Allora siccome ho capito che Inzuccio sta male Perché il mitico Albano diciamo si ritirerà dai palcoscenici della musica Mi sono messo a cercare qualcuno che possa prendere il suo posto E ho trovato uno che è Allora però è meglio chiedere una cosa perché io vi conosco e so come siete Questo fa canzoni senza dire nulla Fa versi Tipo mia nonna con l'ictus tutta bloccata Anzi ora ve lo imito e vediamo se lo indovinate Versi indovinate chi è? Erfaina se non ti intendi di musica Parla di argomenti a te affini come gli accendini e altro La musica lasciala fare a chi è capace Grazie Alessio che io preferisco Albano Quindi non mi rompi palo scusami eh E non iniziare a fare un dissing con quell'altro là Damiano Che poi una cosa che va avanti io non vado più giù in Puglia Ad Albano con Andrea che mi ha fatto cul per convincerlo Ale che scemo che che scemo che so stato Mo ho capito perché vuoi signorino young come cazzo si chiama E perché i coglioni vanno in giro in coppia Cioè Damiani non è che ti voglio offendere Solo che la musica è una cosa delicata Cioè o nasci col tatto per la musica Ancora con signorino È una droga non ce la faccio smettere Ale ultima volta Alessio Cosa stai facendo Aiutami non ce la faccio più